Ragazzi questo sarà il mini vlog del mio viaggio in Sardegna di qualche giorno. Grazie per la visione! 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 ok ragazzi scusate se ho fatto soltanto dei virold ma ora adesso parlo cioè siamo arrivati il viaggio in nave è stato un po me perché però la nave era deserta c'era poca gente quindi mi accontento che posti mamma mia ragazzo c'è la sardinia ferris si vede il centro commerciale cioè guardate questi specchi un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti